E' partita la seconda corsa del premio Arnaldo Rosatini, una condizionata per cavalli di razza puro sangue arabo. In vantaggio si porta Vesna nelle fasi iniziali di gara con a ridosso vento di Gallura, poi Vulcano by Von Orvesu per linee esterne, quindi all'interno di Vulcano si propone, adesso Vistosa di Barbagia in penultima posizione Verdigo, quindi Iannua Bosana e Ibis Bosana a ridosso. All'attacco della curva Vesna al comando avvicinata da Vento di Gallura per linee esterne Vulcano by Von Orvesu, per linee interne Quarta Vistosa di Barbagia, mentre prova ad avanzare Verdigo per linee esterne, trascinandosi Ibis Bosana e Iannua Bosana. Siamo in addirittura d'arrivo, temporeggia ancora Vesna, Vulcano by Von Orvesu si porta al fianco di Vento di Gallura, l'intersezione delle piste punta su Vesna trascinandosi Verdigo, quindi a Vistosa di Barbagia per corsie centrali alla ricerca di un varco. Vesna al comando, Vulcano by Von Orvesu che cerca l'aggancio all'interno Vento di Gallura, all'esterno si prepara Vistosa di Barbagia, ancora più a largo invece è Verdigo, più indietro le due Bosana nel finale, c'è lo scatto di Vistosa di Barbagia che a 200 dal traguardo, ingrana la quinta e se ne va lasciando secondo Vulcano by Von Orvesu, poi Vesna avvicinata da Vento di Gallura. Vince in solitudine il numero 6 Vistosa di Barbagia davanti a Vulcano by Von Orvesu, che non può essere altro che secondo, veramente dirompente la prestazione di Vistosa di Barbagia con Tore Sulas in sella, i colori del signor Mereu, mentre rivediamo anche il passaggio sul traguardo Vistosa di Barbagia numero 6, secondo posto per Vulcano by Von Orvesu numero 7, per il terzo Vesna si salva da Vento di Gallura ed è il numero 5 al terzo posto, quindi 6, 7, 5 l'ordine d'arrivo ufficioso per questa seconda corsa da Roma. Grazie.